Finisce 6-1 contro la Popil Bianco di Cosenza. La capolista non perdona nulla ai giovanissimi della DGS De Giorgio che hanno disputato una partita senza mordente. La formazione rimaneggiata di sicuro non ha aiutato la squadra rosso-nera a resistere alla furia dei cosentini, ma questa non può essere una giustificazione per una gara che ha visto una sola protagonista in campo, ossia la Popil Bianco. Logicamente gli altotirrenici sono tornati a casa dalla trasferta di Cosenza con un boccone tutt'altro che digeribile che pesa sull'andamento del campionato giovanissimi ormai giunto agli sgoccioli e che la DGS De Giorgio può solo provare a chiudere nel migliore dei modi. Mancano infatti quattro partite al termine del campionato e decisamente tutto è stato detto. Si farà meglio il prossimo anno, per il momento i rosso-neri restano al sesto posto a 29 punti.